Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence TV per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano 4 chilometri di coda tra Firenze e Scandicce e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Sempre a causa di un incidente un chilometro di coda anche in direzione Roma tra Firenze e Scandicce e Firenze in Pruneta. 3 chilometri di coda invece a causa di lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. Passiamo alla FIPI lì dove a causa di lavori si segnalano 3 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Uno sguardo alla viabilità della città di Firenze a causa di un incidente restringimento di carreggiate e traffico rallentato in via del Ponte di Mezzo all'intersezione con via del Terzolle. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!